A Teramo il sindaco Gian Guido D'Alberto ha firmato l'ordinanza la cui finalità è quella di ripristinare le condizioni di decoro in città con un particolare riferimento allo stato degli immobili in condizioni di fatiscienza o abbandono. Un'ordinanza che interessa pertanto numerosi edifici a destinazione residenziale e commerciale artigianale, il cui stato lede il decoro e mina la percezione della sicurezza urbana. Assolutamente era necessaria questa ordinanza perché deve essere l'interesse dell'amministrazione di ripristinare un decoro in città ma poi anche in termini di sicurezza che è importante perché spesso sono fabbricati, abbandonati, fatiscenti, tra l'altro favoriscono la presenza di riduttore e quant'altro. E quindi ovviamente anche noi come amministrazione dobbiamo fare la nostra parte ma questa ordinanza era importante proprio per cercare di invitare i possessori di fabbricati, residenziali, non di intervenire, in qualche modo di mettere in sicurezza e poi di garantire anche il decoro. Perché non è possibile, sono tanti fabbricati che sono fatiscenti all'interno anche della città del centro storico in abbandono totale e quindi se vogliamo parlare poi di decoro sicuramente quelle situazioni non favoriscono il decoro della città, anzi contribuiscono poi a situazioni anche ambientali non sicuramente sicure. Tali immobili oltre a rappresentare un pericolo per l'igiene urbana sono di rado caratterizzati dalla presenza di roditori e altri animali potenzialmente portatori di insetti, parassiti e di malattie pericolose per la salute umana. Una situazione di degrado che si riflette sulla qualità di vita complessiva e delle immagini della città. Per questo l'ordinanza sancisce il termine di 60 giorni per regolarizzare le singole situazioni, trascorsi i quali lo stesso comune potrà intervenire a spese dei soggetti inadempienti. Abbiamo il Vigile Ecologico Calvarese che è veramente impegnato su tutti i fronti, una persona anche molto preparata, dovevo cominciare a fare i controlli, certo forse servirebbe un po' più personale per poi arrivare a un buon risultato, però sicuramente continueremo a fare i controlli e adesso abbiamo questa ordinanza che ci aiuta poi ad intervenire.